Non c'è pace per Cristiano Malgioglio al Grande Fratello Vip. Da qualche tempo, infatti, è totalmente cambiato in questa esperienza nella casa, non si diverte più con i suoi compagni e non ci regala quei momenti così divertenti da coinvolgere tutti con la sua ironia e la sua spensieratezza. Il paroliera è molto turbato per quello che è successo nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip riguardo al fatto dello schieramento. Lunedì scorso, su invito di Hilary Blasi, i concorrenti hanno dovuto fare una scelta stare vicino a Jeremias Rodriguez o schierarsi dalla parte di Cristiano Malgioglio. Il paroliera è rimasto molto deluso da Aida Iespica e Daniele Bossari per non essere stati dalla sua parte. Daniele Bossari ha giustificato il fatto della sua scelta sostenendo di essere molto sorpreso e orgoglioso del cambiamento che il fratello di Belen Cecilia Rodriguez ha fatto nel suo percorso all'interno della casa di Cinecittà. Durante la scorsa puntata c'è stato un altro colpo di scena all'interno dei due gruppi formati dallo schieramento, i Vip dovevano eliminare un compagno. Secondo i concorrenti si trattava di una doppia eliminazione mentre, in realtà, si è trattato della decisione del primo finalista. Cristiano ha cercato di vendicarsi su Aida, dopo il gesto fatto poco prima. Grande Fratello Vip, Cristiano Malgioglio contro i suoi compagni dopo il gesto fatto la scorsa sera di mandare al televoto Aida Iespica, Cristiano Malgioglio si è detto molto dispiaciuto. «Io ti voglio troppo bene, come se facessi parte della mia famiglia», dice il paroliere pentito alla showgirl venezuelana. Malgioglio ha cercato di spiegare il perché si è sentito in un certo senso tradito dalla scelta fatta dalla Iespica di schierarsi dalla parte di Jeremias lunedì sera. «Quà amici non ne abbiamo più», sostiene convinto il paroliere. In realtà, sono stati tanti gli avvenimenti negativi accaduti nel corso della diretta di lunedì scorso che hanno riguardato Cristiano. Il paroliere si è visto una sua amica voltargli le spalle per sostenere una persona conosciuta all'interno del reality, Daniele schierarsi dalla parte di Jeremias e il fatto che Luca Onestini ha preferito salvare dalla catena di salvataggio Lorenzo Flaherty, anziché lui. Adesso Cristianino ha espresso la volontà di trascorrere la settimana da solo, parlando solo ed esclusivamente con poche persone a cui si è legato all'interno del GFVIP. Per il cantautore la resistenza è la cosa più importante nella casa di Cinecittà.